Buonasera e benvenuti all'anteprima di Decoder. Qui a Decoder abbiamo molto raramente come ospiti dei parlamentari, ho fatto una verifica rapida e in più di 100 puntate c'è solo un precedente. Non è una scelta, è una difficoltà legata agli impegni parlamentari che deputati e senatori hanno. Questa sera siamo riusciti a superare queste difficoltà e saluto la nostra ospite Maria Edera Spadoni, deputata del Movimento 5 Stelle, deputata reggiana naturalmente e con lei questa sera parleremo, visto che è stata eletta nel febbraio del 2013, parleremo di questi suoi quattro anni alla Camera in una conversazione a metà tra la politica naturalmente e l'esperienza personale. Ci vediamo subito dopo la pubblicità e la sigla. Di nuovo buonasera e benvenuti a questa puntata di Decoder e all'incontro di questa sera. La nostra ospite ve la ripresento, Maria Edera Spadoni, parlamentare del Movimento 5 Stelle, Reggiana, è stata eletta nel 2013 e quindi ormai quando si avvicina alla fine della legislatura facciamo una chiacchierata per raccontare un po' l'esperienza di parlamentare che per chi è arrivato in Parlamento a 33 anni è un'esperienza certamente importante. Intanto con una definizione sintetica, come sono stati questi quattro anni a Roma in Parlamento? Innanzitutto grazie dell'invito al programma. Sicuramente degli anni è un'esperienza unica. Mi viene in mente l'unica parola a cui posso pensare in questo momento. Ovviamente ci si ritrova catapultati in una realtà assolutamente nuova. Ricordo che rispetto ad altri gruppi politici il Movimento 5 Stelle è entrato per la prima volta in Parlamento nel 2013, quindi ovviamente non c'era quell'esperienza che magari invece altri gruppi politici avevano, con ovviamente parlamentari già rodati. Quindi l'inizio indubbiamente è stato abbastanza complicato, non lo si può negare, perché c'è tutta una macchina anche amministrativa all'interno del gruppo parlamentare stesso, sia la Camera che al Senato, che deve in un qualche modo iniziare. Però diciamo che dopo un po' ci si riesce a... Ci si comincia ad orientare. Sì, sì. La sua giornata tipo a Roma com'è? Dunque, io adesso sono vicepresidente del gruppo parlamentare al quale appartengo e quindi sono anche delegata d'aula. I delegati d'aula sono quelle persone che danno le indicazioni di voto durante la giornata. Quindi ovviamente il nostro gruppo decide di fare una rotazione per ogni ruolo come presidente, vicepresidente, capogruppo. e quindi io più o meno sono sei mesi che mi ritrovo in una giornata costantemente in aula, perché ovviamente devo gestire i lavori d'aula e dare le indicazioni di voto per il mio gruppo. Normalmente la giornata inizia verso più o meno le 9 del mattino con le commissioni, alle 10 inizia aula, alle 14 si finisce aula, ricominciano le commissioni, alle 15 si riprende aula fino alle 20. Quella è più o meno la giornata tipo. È una giornata impegnativa, quindi? Beh, diciamo che è una giornata molto, sì, molto, a livello proprio di orario, sono degli orari abbastanza lunghi. È anche vero però che, diciamo, le giornate di votazione sono martedì, mercoledì e giovedì. Quindi lunedì è dedicato o agli eventi sul territorio o agli incontri sul territorio o se no, appunto, dedicato al lavoro che viene fatto in commissione soprattutto. A Roma come si è sistemata? Dove vive? A Roma vivo in un appartamento che ho trovato vicino a Montecitorio. Quindi comodo? Sì, 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 assolutamente comodo. Ovviamente sempre nell'ottica di risparmio, un po' quella che ci contraddistingue, quindi cerchiamo sempre di pagare un affitto che non sia un affitto troppo alto. E quanto paga, ad esempio, l'affitto? Perché non sarà facile pagare poco d'affitto a Roma? Allora, io pago 1.400 euro di affitto al mese per 50 metri di casa. E questi soldi, diciamo, vengono prelevati dalla diaria che guadagno mensilmente. Ricordo che noi ridiamo indietro l'eccedenza. Quindi una volta che io a Roma, diciamo, devo pagare un tot tra supermercato, ristoranti o altro, tutto il resto poi viene devoluto al fondo statale per il microcredito. Quindi dobbiamo fare i nostri calcoli. Senta, nel 2013, subito dopo le elezioni, il gruppo 5 Stelle alla Camera contava 109 deputati. Adesso, poi mi correggerà se sbaglio di qualche unità, siete 88. Al Senato credo sia successo qualcosa di simile, anche se le proporzioni magari possono essere un po' diverse. Le uscite, le espulsioni, le defezioni segnalano un punto critico su cui serve una riflessione oppure secondo lei sono un fatto fisiologico? Ma io ho fatto questo ragionamento in questi anni. Credo che il Movimento 5 Stelle sia l'unico gruppo nel quale non sia entrato nessuno. Mi spiego meglio. Ci sono colleghi del mio gruppo parlamentare che hanno deciso di uscire dal Movimento 5 Stelle e poi sono approdati al PD. Ci sono altri colleghi che sono andati in alleanza nazionale, altri in scelta civica. Ora, stare nel Movimento 5 Stelle è complicato, non è una cosa semplice, perché abbiamo dei nostri valori, abbiamo un nostro regolamento che dobbiamo portare avanti e chi decide in un qualche modo di, penso per esempio alle rendicontazioni, quindi chi decide di non rendicontare o chi decide per esempio di dimettersi, a quel punto è giusto che dal mio punto di vista non faccia più parte del gruppo parlamentare. Secondo me, insomma, arrivare a pensare che dopo quattro anni una persona ridà indietro, nel mio caso per esempio più di 145 mila euro, ripeto, è complicato stare nel Movimento 5 Stelle. Poi ci sono anche altre situazioni. Ci sono dissensi anche politici, non solo legati a questioni di questo. Ovvio, lei parlava del numero che è 88, il numero è corretto. Gli ultimi tre colleghi che sono usciti al Movimento 5 Stelle, quindi Riccardo Nuti, Giulia Di Vita e proprio ieri Claudia Mannino, c'è proprio, insomma, negli ultimi giorni diciamo, esatto, Claudia Mannino, sono usciti perché gli è stato richiesto di uscire. Loro sono implicati in un'indagine e quindi noi... La vicenda di Palermo. Eh, esatto, l'indagine per le firme di Palermo. Loro, indubbiamente, avranno tutti gli strumenti per riuscire a provare la loro innocenza. Però noi dobbiamo far capire che assolutamente non accettiamo questo tipo di situazione. Loro, in modo molto responsabile, hanno deciso di uscire dal Movimento 5 Stelle. Tra i parlamentari, non alla Camera, ma al Senato, che non fanno più parte, eletti nel Movimento 5 Stelle che non ne fanno più parte, c'è una senatrice reggiana che è Maria Mussini. Con lei, dopo che le strade si sono divise, il rapporto personale si è mantenuto o si è incrinato? Allora, faccio una premessa. Maria Mussini, diciamo che è stata uscita al Movimento 5 Stelle anche perché ha deciso di dimettersi. Quindi ha deciso di dimettersi per protesta dal gruppo parlamentare. E dal mio punto di vista, nel momento in cui tu decidi di dimettersi dal gruppo parlamentare, dall'essere in Senato, non dal gruppo parlamentare, per protesta, per una supposta protesta, a quel punto devi uscire anche dal gruppo parlamentare. Cioè, sarebbe estremamente incoerente dire, ok, mi dimetto, però rimango all'interno del gruppo. Da quello che so, Maria Mussini ha chiesto una volta di uscire, diciamo, ha chiesto, ha sollecitato una volta, c'è stata una votazione per le sue dimissioni, votazione ovviamente che è stata rispinta, ma tutti sappiamo, sia la Camera che il Senato, che affinché vengano accettate le dimissioni bisogna richiederle più volte. Ovviamente se uno lo fa una volta, dal mio punto di vista, vuol dire che vuole rimanere. Ed è semplicemente un gesto che fa di protesta, ma... La prima volta, diciamo, in genere, Camera e Senato respingono... Ma non credo che sia mai successo che la prima volta siano state accettate. Per quanto riguarda i rapporti personali, sono rapporti di cortesia, ovviamente. Essendo una collega, comunque, una parlamentare, ci sono rapporti di cortesia. Ovviamente non ci sono più rapporti lavorativi, ecco. L'aspetto meno, non so come dire, allettante della vita parlamentare qual è? Quello che le pesa di più, mettiamola così. Stare lontano da mio marito. Assolutamente. Questo è pesante. Eh sì, molto, molto. Nel senso che, ovviamente, i colleghi sono colleghi da tutta Italia e quindi moltissimi colleghi hanno lo stesso problema. Mio marito al momento lavora vicino a Milano, io ho il mio territorio, che è comunque il territorio di Reggio Emilia, e poi c'è Roma. Quindi io mi ritrovo a dividermi tra Milano, Reggio Emilia e Roma. Non è semplice, ecco, però se dovessi pensare proprio alla prima cosa è il fatto che, insomma, mio marito è lontano. Perché poi quando non si è in Parlamento bisogna, appunto, come diceva prima, curare i rapporti col territorio, incontrare le persone. Assolutamente sì. Io cerco di concordare con il mio gruppo, qua a Reggio Emilia, cerco di concordare sempre un fine settimana dedicato al territorio. Una volta al mese facciamo una riunione con i consiglieri di tutta la provincia di Reggio Emilia, consiglieri ovviamente anche di Reggio Emilia, per fare un po' il punto, per capire in che modo che azioni stanno facendo, perché poi ogni territorio ha le sue problematiche, quindi l'Appennino può avere determinate problematiche, la Bassa invece ne ha delle altre. Quindi cerchiamo un attimo di fare il punto. e ovviamente quel fine settimana è dedicato anche agli incontri. Quindi chiunque abbia piacere a parlare con me o appunto a esprimere delle problematiche relative al territorio, in quei giorni ha la possibilità di farlo. Ma suo marito, che lo dico per chi ci segue, questa sera l'accompagnata ed è qua fuori, la incoraggia a tenere duro oppure dice ma insomma facciamo una riflessione su questa situazione? No, assolutamente. Mio marito mi incoraggia, il nostro rapporto si basa su fiducia, prima di tutto ovviamente amore, fiducia e anche una grandissima libertà. Quindi lui mi sprona nel senso che mi dice tu devi fare quello che ti senti di fare, quello che hai voglia di fare. e poi in un qualche modo troviamo il modo per vederci. E la cura dei rapporti con il territorio è complicata? No, non la trovo complicata, nel senso che io ho un assistente, ho due assistenti, un assistente full time, un assistente part time e Consuelo, che è l'assistente part time, gestisce il territorio, il che vuol dire che mantiene i contatti con i consiglieri della provincia, con gli attivisti, fa una rassegna stampa tutte le mattine che poi viene mandata via Telegram a tutti gli iscritti al canale Telegram di Reggio Emilia o Comunicazione, si chiama. Quindi io tutte le settimane mando un report riepilogativo della settimana che è passata in Parlamento, cerco appunto di non spammare troppo, quindi una mail a settimana è... E si riesce a far capire alle persone, guardate che io sono a Roma, magari a voi sembra che le cose non vadano avanti, però io sto lavorando, ce la sto mettendo tutta, oppure la distanza si sente? Quello dipende molto da voi, nel senso che ovviamente nei momenti in cui i media riescono a dare spazio anche ai parlamentari di opposizione, ovviamente si riesce... alla gente arrivano comunque, arrivano le comunicazioni che si cerca di dare. Sì, io mi rendo conto che non mi posso lamentare diciamo dei giornali o delle televisioni che ci sono qua a Reggio Emilia, perché in media due volte a settimana esco, tra filetto, insomma i comunicati stampa che mandiamo, bene o male sono abbastanza... vengono letti, ecco. Senta, nei primi anni, ricordo, nei primi anni del Movimento 5 Stelle, voi puntavate molto sulle dirette streaming, ricordo quando ponevate il tema delle dirette streaming, dei consigli comunali, delle sedute parlamentari, cose che ora sono diventate, almeno in certe realtà, abituali. Invece sulla diretta streaming dei vostri incontri avete un po' corretto il tiro, cambiato idea? No, non abbiamo cambiato idea, credo che sia stata proprio semplicemente un non pensare, soprattutto penso alle ultime votazioni del capogruppo, perché erano poi quelle che facevamo con la famosa graticola, ma credo che non ci sia stata semplicemente l'organizzazione per farlo, non è che ci sia dietro chissà qual è. Cioè non è che ci hai detto l'idea che poi, insomma, è molto antica, che i panni sporchi si lavano in casa e il resto invece si fa in pubblico? No, no, no. Per quanto riguarda le elezioni dei capogruppo, proprio il, diciamo che sono le riunioni che mi ricordo, che prima venivano messe in streaming e adesso no, credo che sia stata semplicemente un, diciamo, una non organizzazione. Ovviamente c'è da dire una cosa, se noi facciamo determinate riunioni delicate, si è persa questo desiderio di fare lo streaming, perché se da una parte a livello territoriale non posso, diciamo, lamentarmi di come ci trattate qui sul territorio, non posso dire la stessa cosa a livello nazionale. Quindi c'è uno squilibrio totale tra lo streaming che magari può fare Renzi e il Partito Democratico, l'ultimo streaming, perdoni il termine ridicolo, dove Renzi diceva sì, va bene, decido io tutto e poi se ne andava senza permettere agli altri di parlare, non c'è stata quella specie di bomba mediatica che invece succede a noi in qualsiasi situazione, mi vien da dire. Cioè Grillo e Di Battista vengono querelati due giorni sui giornali. Questione Consip e padre di Renzi, adesso sembra che la cosa non sia più... Non è che non se ne sia parlato. Sì, sì, beh, ovvio che se ne è parlato, però a un certo punto, insomma, diciamo che la cosa... Diciamo che le due vicende hanno chiaramente un peso diverso. Poi in entrambi i casi saranno fatti gli accertamenti, però è chiaro che una querela non è un'inchiesta su fatti di presunta corruzione. C'è una cosa che ha fatto in questi anni alla Camera di cui è particolarmente orgogliosa? Sì. Anche più di una, eh, ma... Prima cosa che mi viene in mente è quando sono salita sul tetto. Quella è la prima cosa. È stato un atto? No, non è stato un atto che ho depositato. Se devo pensare agli atti che ho depositato, sicuramente la richiesta, la legge sulla ratifica della Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere, per la quale sono la prima firmataria. Quella è stata una cosa che mi rende molto orgogliosa. Al Consiglio d'Europa, sicuramente il fatto di aver portato avanti, di essere stata promotrice e rapportore di una risoluzione sulla raccolta dati sulla violenza di genere, che poi è stata approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di cui io faccio parte. È un'altra cosa di cui sono orgogliosa. Se devo però pensare alla cosa che più, in un qualche modo, mi ha fatto sentire orgogliosa di me è stata quando siamo saliti sul tetto per difendere l'articolo 138 della Costituzione. Eh, ricordiamo il senso di quel gesto. L'articolo 138, allora la Commissione Affari Costituzionali stava cercando di modificare l'articolo 138 che prevede e in poche parole spiega l'iter per modificare la Costituzione stessa. Ora, la maggioranza, quindi il Partito Democratico, voleva in poche parole creare una sottocommissione ad hoc per far sì che la Costituzione venisse modificata più velocemente, proprio in previsione delle famose, diciamo, riforme costituzionali che poi non sono passate con il referendum. Il referendum del 4 dicembre. Del 4 dicembre, esatto. Ora, quando i miei colleghi di affari costituzionali ci hanno raccontato questa barbarie, perché sarebbe stato uno stravolgimento modificare un articolo della Costituzione, cioè fare una legge per far sì che l'articolo 138 venisse messo da parte, quindi venisse fatta una commissione per velocizzare le riforme costituzionali. Per noi la Costituzione è qualcosa di sacro, veramente sacro. Quindi mi ricordo che i ragazzi di affari costituzionali hanno detto dobbiamo fare qualcosa di etatante, cioè dobbiamo proprio spiegare alle persone che cosa stanno cercando di fare, che per noi era proprio una specie di colpo di Stato. E quindi la sera prima, mi ricordo, è stato deciso di fare un'azione eclatante. L'unico modo per uscire sui giornali, ricordo eravamo se non sbaglio a luglio 2013, quindi i giornali non ci davano particolarmente spazio, l'unico modo era fare un'azione eclatante. Quindi il giorno dopo abbiamo deciso di salire sul tetto e assieme appunto anche a un grandissimo telo dove avevamo scritto la Costituzione non si tocca e lì siamo rimasti due giorni. Senta, Beppe Grillo visto da vicino com'è? Beh, Beppe è una persona, mi viene da dire, una persona unica. Ovviamente lui quando ci vediamo ultimamente nelle riunioni ormai ci dice, cioè voi ne sapete più di me, è proprio una persona che incredibilmente ha dato fiducia a 163 persone che non neanche conosceva ed è una fiducia che indubbiamente immagino deve essere stata difficile da dare perché comunque è lui che ha creato il Movimento 5 Stelle, è una sua creatura e a un certo punto nel 2013 si è trovato a lasciarla a degli sconosciuti perché eravamo sconosciuti, non ci conoscevamo. Io Beppe Grillo l'avevo visto, credo, agli spettacoli, due o tre volte agli spettacoli. Quindi è una persona molto, beh, è una persona assolutamente riverente anche, mi viene da dire. E come si trova l'equilibrio tra appunto una leadership riconosciuta e però anche un movimento che soprattutto per le dimensioni che ha raggiunto deve poi prendere quotidianamente delle decisioni per le quali serve anche autonomia? Eh, quello è un po' complicato nel nostro gruppo, nel senso che non essendoci una gerarchia, perché sostanzialmente anch'io qua sul territorio posso essere un referente, ma non c'è una segreteria di partito, non abbiamo delle sedi, quindi è estremamente fluido il Movimento 5 Stelle. Ovviamente però dall'altra parte ci stiamo, in un qualche modo, stiamo costruendo una struttura, perché una struttura a un certo punto ci vuole, soprattutto quando i sondaggi ti danno al 25-30%. Quindi stiamo cercando di trovare il giusto compromesso tra avere una struttura e mantenere però i nostri valori che sono quelli per esempio della democrazia diretta. Io faccio parte della Commissione Affari Esteri e proprio in questi giorni sul sito Movimento 5 Stelle.it stiamo proprio votando, cioè sul blog di Beppe Grillo stiamo votando il programma. Cioè questa cosa per me è rivoluzionaria, ci sono i colleghi di Ambiente che hanno fatto determinate domande e gli utenti hanno deciso di rispondere in un certo modo e quindi i colleghi della Commissione Ambiente stanno portando avanti la linea che è stata data dagli iscritti. È rivoluzionaria sta cosa. Parlava di sondaggi, tra un po', sarà tra qualche mese o sarà tra un anno al massimo, andremo a votare. Le piacerebbe continuare questa esperienza di parlamentare o hai mente altro? Allora io sono, permetto che io il lavoro ce l'ho, sono appunto in aspettativa per una compagnia aerea inglese e credo che, insomma, indubbiamente non mi dispiacerebbe portare avanti un'esperienza del genere anche perché penso che se adesso qualcun altro dovesse andare in Parlamento sarebbe come partire da zero. Dall'altra parte, indubbiamente ci dovrà essere un passaggio, immagino, anche sul territorio per capire se, insomma, c'è questa volontà anche da parte del territorio. Ecco, su questo aspetto, le vostre regole cosa prevedono? Il limite dei due mandati? Sì, assolutamente sì. Le nostre regole prevedono che ci sia un massimo di due mandati e per candidarsi ovviamente bisogna avere la fedina penale pulita. A proposito di elezioni, il Movimento 5 Stelle potrebbe anche vincere le elezioni politiche che si svolgeranno da qui al 2018. Secondo lei qual è l'errore che per vincere non deve commettere? In che senso? C'è l'errore che noi non dovremmo fare per... C'è un errore che rischiate di fare che potrebbe compromettere una vittoria elettorale? Ricordo ad esempio all'Europe del 2014 Grillo, non ricordo se fu Grillo, ma sicuramente osservatori dissero ma forse si è dato troppo per scontato che si sarebbe vinto, forse abbiamo accentuato troppi toni, ecco, non lo so. Ma allora, diciamo che adesso noi ci stiamo un po' trasformando, nel senso che da movimento di protesta ovviamente adesso cerchiamo di dimostrare agli italiani che invece possiamo essere un movimento... insomma, possiamo andare a governare. Ci sono state tantissime proposte in questi anni che sono state portate avanti dal Movimento 5 Stelle di cui, e questo mi dispiace dirlo, di cui però non si parla. Quindi c'è questa tendenza un po', soprattutto nei giornali nazionali, a darci delle persone che protestano e basta. Io a volte leggo degli articoli sul fatto del populismo, perché ovviamente non citano il Movimento 5 Stelle ma poi il Movimento 5 Stelle viene associato al populismo, no? Il populismo è, diciamo, è pericoloso per la democrazia, il populismo è violento, il populismo... Se uno va a vedere gli atti effettivi che abbiamo fatto, si rende conto che noi abbiamo veramente proposto tante cose. Quindi per tornare appunto alla domanda, secondo me l'errore che non dobbiamo fare è, diciamo, noi dobbiamo fare in modo che la gente capisca quali sono le nostre proposte e si renda conto che siamo pronti per governare. E quindi l'errore sarebbe non continuare su questa strada. E che non c'è solo la protesta ma che ci sono anche proposte che vi rendono una forza credibile di governo. Assolutamente. Io su Open Police risulto al 118esimo posto, se non sbaglio, come produttività su 630. Nel senso, questo cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente... E lavora sodo in Parlamento. Cioè delle proposte sono state fatte, alcune proposte di legge sono state approvate, quindi evidentemente c'è un lavoro dietro, non è soltanto la protesta o l'andare sui tetti, per intenderci. Si va sostanzialmente, anche se non si sa bene con quali dettagli, e in questi casi i dettagli sono importanti, però si va sostanzialmente verso una legge proporzionale, una legge elettorale proporzionale. Con un meccanismo per il quale o si vince con più del 40% e allora si ha la maggioranza, oppure si può anche vincere ma se non si arriva al 40% non si ha la maggioranza. Questo spinge tutte le forze politiche a porsi il tema della necessità, forse, di stringere delle alleanze. Se voi questo tema delle alleanze ve lo ponete o non ne volete proprio sapere? Allora, prima di tutto sono contenta che lei sia così convinto che ci sia una legge elettorale tendente al proporzionale per arrivare al 40%. Io quello che le so dire, e proprio in quanto delegata ad aula ho il calendario dell'aula, quello che le so dire è che in affari costituzionali ci sono, se non sbaglio, 30 proposte di legge elettorale e che al momento in aula non è previsto nulla. Cioè, quando si parla costantemente del fatto che la legge elettorale si deve fare questo e quest'altro nell'aula o nelle commissioni, quindi nei luoghi in cui bisognerebbe discutere, non si discute. Sono due mesi che c'è la legge elettorale che dovrebbe arrivare in aula, che non c'è. Detto ciò, il Movimento 5 Stelle continua a pensare che non possiamo fare alleanze di nessun tipo. Cioè, non sapremmo neanche eventualmente con chi. Sì, le dico la verità, perché per me vedere una sinistra, ma beh, bisognerebbe anche capire che tipo di sinistra, perché poi anche il nuovo MDP a volte votano insieme, a volte votano divisi, non si capisce esattamente. Ma sono in maggioranza comunque. No, MDP adesso sono diventati oppositi, parlo di Bersani e gli altri. Ma che sostengono il governo Gentiloni, non so poi se i comportamenti siano conseguenti. A volte sia, a volte no. Sì, dipende dalla situazione. Comunque, per me vedere una sinistra che sostanzialmente ha perso i valori di sinistra, perché io posso anche dirlo che, insomma, io derivo da una storia di sinistra, ma che ha perso i veri valori della sinistra. E quando si tratta di parlare delle vere battaglie da fare, secondo me, che sono le battaglie sull'austerità e una battaglia sulla riforma dell'Europa, perché poi dicono anche un'altra cosa di noi, che siamo anti-europeisti e siamo anti-euro. Alt. Io sono una persona che lavora per una compagnia inglese, che ha fatto l'Erasmus in Germania, perché sono laureata in tedesco, e che ha avuto un contratto in Spagna. Cioè, io sono la persona che più ha sfruttato l'essere europea. Io sono orgogliosa di essere europea, ma non mi piace questa Europa. Siamo in chiusura e questa era l'ultima domanda, beh, è volata questa mezz'ora. L'ultima domanda era proprio questa, il futuro dell'Italia lo vede dentro l'Unione Europea, le chiedo un'opinione personale, non la posizione, ma lo vede dentro l'Unione Europea, fuori dall'Unione Europea, dentro l'Unione Europea, ma diversa da quella attuale? La domanda da porsi è che ci sarà un'Unione Europea. Questa è la domanda da porsi. L'Unione Europea, così com'è, imploderà, prima o poi. Non credo che la Brexit sarà l'unica situazione in cui un paese deciderà di uscire. Bisogna capire come uscirne eventualmente. Quindi, ovviamente, quello che le posso dire è che io preferirei rimanere all'interno dell'Europa, in un'Europa sicuramente diversa, non l'Europa che lascia morire il popolo greco. Questo no, non mi interessa questa Europa. Ho poca fiducia del fatto che possa effettivamente cambiare. Bene, grazie Maria Edera Spadoni, il nostro ospite di questa sera. Una conversazione, l'avevo detto, anche per conoscere meglio la persona, oltre che il suo lavoro parlamentare. Siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio per averci seguito. Se volete con Decoder, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.